Ben tornati sul canale Io amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come Ambra Angiolini sembra proprio ritrovare un poco di felicità dopo un periodo di buio. Ecco con chi è stata vista. Nell'ultimo periodo abbiamo visto Ambra Angiolini postare una foto insieme ad un uomo che sembra averle fatto ritrovare il sorriso Ma di chi si tratta? Domenica scorsa, molto più precisamente il giorno dedicato a celebrare tutte le mamme, Ambra Angiolini ha postato sul suo profilo Instagram una foto che immediatamente si è diffusa a macchia d'olio e che sembra aver fatto andare fuori di testa tutti i suoi fan Il motivo? Accanto a lei c'era un volto noto nel panorama musicale, un uomo che tutti conoscono e ammirano La vita sentimentale di Ambra Angiolini non è stata molto semplice. In passato l'abbiamo vista vivere una storia d'amore molto lunga con Francesco Renga, un qualcosa che li ha visti impegnati per ben nove anni E che ha dato alla luce anche due bellissimi bambini, Yolanda e Leonardo Nonostante la loro relazione sia terminata, tra i due c'è sempre stato un buon rapporto, molto probabilmente anche per il bene dei figli Nel 2017 Ambra Angiolini ha iniziato a frequentare un altro uomo, Massimiliano Allegri Una felicità ritrovata quella di Ambra Angiolini, vediamo con chi È stata questa una relazione che ha interessato molto il mondo del gossip anche se poi, nel 2021, anche quest'avventura sentimentale ha avuto fine Non sono mancate indiscrezioni riguardo al termine di questa relazione in quanto, secondo alcuni, la coppia Angiolini Allegri sarebbe scoppiata a causa di un tradimento di Massimiliano Da allora sembra che Ambra Angiolini abbia deciso di spegnere i riflettori sulla sua vita privata, per dedicarsi solo ed esclusivamente alla sua carriera Infatti molti sono i progetti televisivi e cinematografici che la vedono come protagonista mentre, pochi giorni fa, è stata ufficializzata la sua presenza del programma X Factor 2022 È questa una nuova avventura di cui lei si dice molto entusiasta Di sicuro Ambra Angiolini può essere considerata un'artista a tutto tondo capace di reinventarsi in base alla situazione e di mettersi in gioco sempre e comunque La sua vita, però, sembra aver preso una piega positiva anche per quanto riguarda la parte sentimentale Infatti, proprio in occasione della festa della mamma, come leggiamo su Più Donna, è stata lei stessa a postare su Instagram uno scatto in cui veniva raffigurata insieme ad uno degli uomini più importanti della sua vita Insieme a tale foto, una didascalia ricca di significato completa e tutto In un giorno come questo penso che non ci sia nulla di più poetico che aprire la scatola delle definizioni, sfidarli, non mentire a noi stessi pur di rientrare in un unico schema Ma, in mille più declinazioni, per dare tutto l'amore che ogni vita si merita A prescindere da chi la porta in grembo, auguri a tutte e tutti Ma chi è quindi l'uomo che le ha fatto ritornare il sorriso? Nello scatto condiviso da Ambra Angiolini c'erano proprio loro, i figli insieme a Francesco Renga Si tratta semplicemente di una foto in cui, ancora una volta, l'attrice dimostra che il rapporto tra i due è rimasto intatto Nonostante la loro relazione sia finita, sembra che siano sempre molto affiatati ed uniti Infatti, sembra che per il momento non sia previsto nessun ritorno di fiamma Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao